Eccoci qui, oggi con il settimo turno del torneo NOAH contro Truman. Lanciamo il DUN. Il settimo turno di eliminazione diretta. 4-4, ritiriamo. Va bene, 3 pari. 3-3. Sfida guerrita. Si è. 1-3. Chi parte? Partirò. No, lascerò partire te. Va bene. Pesco la sesta carta. Setto una carta, evoco Spear Dragon e termino il turno. Pesco una carta. Posiziono un mostro e termino il mio turno. Pesco. Allora, come prima cosa attivo Fusione Futura. Dichiaro Drago a 5 test. Poi. Mandono Re delle Panune, Spirito Ryo, il drago metallico Rava, il drago meteora e il voltgard Zves. Quindi vieni capitolando, questi mostri. Poi, vado in... no. Tributo, Spear Draver, evoco Horus livello 6, entro in Battle Phase e dichiaro attacco con Horus. Coniglio bianco in agua. Si spacca, vado in End Phase, Tributo ed evoco specialmente il livello 8. Vado a due turni, questa qua, e termino il turno. Pesco. Termino il mio turno. Un turno di Fusione Futura, evoco Zure, entro in Battle Phase, attacco con Zure sul mostro coperto. Coniglio bianco in agua. E attacco con Horus, 3000 di attacco. 3000 d'aglia. Termino il turno. Posiziono un mostro e termino. Pesco. Entra il mostro evocato di Fusione Futura. Ok. E poi attivo Blocca Difesa. 8 E-Meta. Entro in Battle Phase, attacco di Drago a 5 test. Va bene, alla mano perfetta. Parto io. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo con la seconda. Pesco la sesta. Strega Oscura Dunares, in posizione di attacco e termino il mio turno. Pesco. Seto una carta e termino il turno. Pesco una carta. Evoco Yatagarasu. E dentro in Battle Phase. Attacca Yatagarasu. 200 di danno. Attacca Strega Oscura Dunares, 1800 di danno. Va bene, è tua, è tua. Non ho niente. E parto io. Facciamo uno pari. Per questo facciamo la terza partita. Pesco la sesta. Seto un mostro e termino il turno. Ok. Pesco la mia sesta carta. Evoco il Rex gigante. Che ha 2000 di attacco e prova ad attaccare il tuo mostro coperto. Cavaliere familiare. Interessante. Possiamo evocare specialmente dalla mano in un livello 4. Io ho deciso. Anch'io. Evoco specialmente Gradius dalla mano. Bene, io nulla perché non ho 4 stelle in mano. Molto bene, Gradius attacca direttamente allora. 1.200 a me. Main Phase 2 posiziona una carta sul terreno e poi termina il mio turno. Pesco. Molto male, Truman. Vieni da un'altra epoca, ma io sono più potente di te. Evoco Infernal Dragon. Entro in Battle Phase e attacco Rex gigante. Rex gigante. D'accordo. E poi termina il turno. Pesco una carta. Evoco Prete Asura. Prete Asura. Attacca col tuo canone speciale direttamente. Sono 1.700 di danno. Più Gradius altri 1.200. Vado in End Phase e torno in mano. Termino. Pesco. Termino il turno. Pesco una carta. Evoco Prete Asura. Attacca Gradius. Attacca Prete Asura. La tua fine è vicina. Ma non è adesso. Non lo sarà. Dopodiché... Termino il mio turno. Torni in mano Prete Asura. Pesco. Si conclude qui la partita tra Noah e Truman. Come potete vedere quest'oggi vi abbiamo caricato tre partite perché non arrivavamo a un minutaggio adeguato. Purtroppo questa partita è andata veramente male. È stata un pesca bene uno, pesca bene l'altro, pesca bene ancora quell'altro. E quindi questa è stata la partita. Il match viene riportato vinto da Noah per 2 a 1. e quindi potremo vedere nella prossima fase il nostro grande Noah ancora. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!